Buonasera e benvenuti all'edizione di Genius Piceno, è pronto il vatemegum del nuovo codice antimafia nel contesto delle numerose iniziative dedicate dalla prefettura di Ascoli in merito ai temi della legalità e alla prevenzione delle infiltrazioni della criminalità organizzata nel sistema economico del Piceno. Vediamo il servizio. Al via questo nuovo vatemegum, questo nuovo codice antimafia soprattutto per le aziende del territorio. Allora l'ufficio ha predisposto un vatemegum per una più agevole lettura e interpretazione della complessa e articolata normativa antimafia, il decreto legislativo 159 e le successive modifiche e integrazioni. È uno strumento agile che è stato predisposto per le stazioni appaltanti e per tutti gli operatori economici della provincia per facilitare appunto la interpretazione e la corretta applicazione di una normativa in realtà molto complessa. Quindi è sicuramente un vantaggio per l'azienda del territorio per evitare problematiche a livello di controlli. Sì, noi lo presenteremo domani, lo consegneremo, il vatemegum è questo libricino, lo consegneremo a tutte le stazioni appaltanti nel corso della conferenza permanente, della conferenza provinciale permanente che è stata indetta per domani. Ne abbiamo stampato un certo numero di copie e quindi lo consegneremo a tutte le stazioni appaltanti. Il vatemegum è stato predisposto dall'ufficio e si è potuto realizzare con il contributo della Camera di Commercio e di Confindustria di Ascoli Piceno che hanno consentito la realizzazione pratica del vatemegum. Danni per circa 600.000 euro e questa la stima fatta dal comune di Monsampolo del Tronto dopo la recente ondata di maltempo. varie le situazioni di emergenza e difficoltà che si sono generate sul territorio comunale. Diverse le frane incontrata Santigidio e incontrata Maiano, un movimento franoso piuttosto grave anche sulla nuova circonvalazione del centro storico, ancora non inaugurata con i lavori fermi dagli inizi del 2014 per causa ancora in corso di accertamento, ma certamente aggravate dal maltempo, oltre a situazioni che si possono definire pericolose in Piazza Castello, con le mura storiche ad ovest del centro storico, a rischio crollo da qualche anno. Il sindaco Pierluigi Caioni ha chiesto un aiuto alla regione per il ripristino delle situazioni più difficili. Il sindaco di San Benedetto Giovanni Gaspari dovrà pagare 119.000 euro entro maggio. E' arrivata infatti la notifica della condanna della Corte dei Conti nei confronti del primo cittadino e del dirigente Polidori per il caso Zazio. La notifica era l'ultimo tassello. Per quanto concerne il pagamento, si sa che Gaspari lo affronterà attraverso un mutuo acceso presso un istituto di credito. Da questa notifica decorreranno anche i sei mesi entro i quali Gaspari potrà presentare ricorso in Cassazione. Fin dal primo momento il sindaco ha dichiarato Andrò in capo al mondo affinché venga riconosciuto estraneo dall'accusa che mi arriva dalla Corte dei Conti sul caso Zazio. La mia dignità e quella della mia famiglia non hanno prezzo. Quindi si sta preparando il pagamento e la presentazione del ricorso da parte del suo avvocato Andrea Galvani. E la vicenda della Prisma Andiasco li prosegue con nuovi incontri. Il prossimo 26 marzo si terrà un tavolo di concertazione amministrato e sviluppo economico tra tutte le parti in causa per cercare di salvare lo stabilimento Piceno. Intanto il titolo dell'azienda vuole in borsa dopo le voci che parlerebbero di una cessione del titolo ad un'altra multinazionale del settore. Vediamo il servizio. Continua la vicenda che coinvolge lo stabilimento Prismian di Ascoli in procinto di chiudere l'attività dopo la decisione della proprietà della multinazionale dello scorso 27 febbraio. Ricordiamo che 120 lavoratori sono a rischio licenziamento. È stata stabilita la data del confronto tra le parti in causa al Ministero dello Sviluppo Economico. Il prossimo 26 marzo si approfondiranno infatti tutte le strategie e anche le speranze di salvare lo stabilimento Ascolano. Il governatore delle Marche Gian Mario Spacca ha incontrato il viceministro Claudio De Vincenti proprio per stabilire le prossime mosse da compiere in maniera congiunta mentre il responsabile ministeriale della gestione vertenze Gian Pietro Castano ha mantenuto la parola dopo i contatti avuti con i vertici della Prismian con cui è iniziato un dialogo che dovrà necessariamente proseguire un tavolo di concertazione. Intanto i lavoratori ascolani proseguono iniziative di protesta. L'ultima proprio durante un evento di grande visibilità come la Tirina Adriatico mentre Ascoli continua a mostrare solidarietà ai lavoratori in lotta offrendo loro cibo e riparo a dimostrazione di una fortissima unità di intenti. Intanto in borsa vola il titolo Prismian. Il mercato promuove l'eventuale acquisto della multinazionale da parte di General Cable. I vigili del fuoco e la guardia costiera di San Meredetto salvano un cane che si tuffa in mare e poi non riesce a riguadagnare gli scogli. L'episodio si è verificato e il rischio era proprio sul molo della città riverasca. La coppia, proprietaria dell'animale, ha allertato i soccorsi dopo aver inutilmente tentato di aiutare il cane. Sul posto è intervenuta la capitania di porto con un gommone accompagnato fino alla scogliere i vigili del fuoco che sono riusciti poi a dimindituare il cane e tranquillizzandolo lo hanno caricato a bordo e riportato a riva riconsegnandola ai preoccupatissimi padroni. Poliziotti ai semafori e nell'incrocio al posto dei lavavetri muniti di secchi e spazzoloni per distribuire cartoline ai cittadini e agli automobilisti e sensibilizzare anche dalla provincia di Ascoli il governo dall'adozione di provvedimenti urgenti in materia di sicurezza, resi ancora più necessari dall'emergenza terrorismo. è l'iniziativa del sindacato autonomo di polizia SAP che questa mattina è sceso in piazza anche ad Ascoli Piceno in via La Indipendenza e affermo in via Murri all'incrocio della statale 16 con la statale provinciale 259. Un dato campeggia, la Camera dei Deputati spende 7 milioni all'anno per le pulizie e non si trovano 6 milioni per un corso antiterrorismo con cui formare gli agenti che svolgono servizio di controllo del territorio? E la provincia di Ascoli non abbandona l'istituto musicale Spontini i fondi ci sono e si aspetta anche che la Rengo dia la propria disponibilità finanziando il conservatorio ce ne parla a riguardo alla consigliera provinciale Valentina Bellini. La situazione economica che riguarda lo Spontini è una situazione sicuramente molto difficile ma quali saranno i prossimi step? Lo step principale che noi vogliamo, siamo fortemente convinti che questo istituto deve rimanere nel territorio perché è, diciamo così, l'istituto di eccellenza rispetto all'educazione musicale alla presenza appunto della cultura musicale nel nostro territorio quindi faremo di tutto perché rimanga quindi l'impegno del nuovo ente provincia c'è tutto tant'è che abbiamo riconosciuto i debiti fuori bilancio nei confronti di questo ente e li abbiamo anche liquidati cosa che l'altro socio consortile cioè il comune ancora non ha fatto capite che la liquidità è fondamentale per un istituto così importante detto questo sappiamo che le nostre competenze in fatto di cultura sono ancora un po' nella nebulosa non sono più funzioni fondamentali dell'ante provincia saranno assegnate alla regione noi però in questo momento di vacanza, di vuoto vogliamo garantire, diciamo così, la sopravvivenza dell'istituto vogliamo mantenerlo solido allora perché non pensare di mantenere questo consorzio che poi verrà raccolto dalla regione questo è il nostro obiettivo cioè non vogliamo dare per morto un istituto che non lo è che ha iscritti, che produce cultura musicale nel territorio quindi passare dei messaggi di messa in liquidazione è sbagliato dobbiamo fare di tutto per mantenerlo e noi l'impegno ce lo mettiamo tutto compatibilmente con i nostri doveri istituzionali se non avremo più competenze sulla cultura non potremo più occuparcene ma finché possiamo, dobbiamo mantenerlo vivo e forte questo istituto E nel rapporto con la Municipalità Ascolana per quanto riguarda questo istituto quali sono, insomma, a che punto sono le relazioni? Le relazioni sono buone abbiamo avuto, almeno apparentemente perché abbiamo avuto un incontro in cui ci siamo dati queste scadenze e abbiamo condiviso questa necessità è secondo me sbagliato far passare invece l'altro messaggio in cui la provincia sembra voglia come dire, lavarsi nelle mani di questo istituto perché questo non è per cui va benissimo la collaborazione col Comune nella misura in cui tutti e due gli enti danno prova di questo impegno ripeto, noi i nostri 35.000 euro li abbiamo versati, liquidati e ci speriamo per il bene dell'istituto che anche il Comune faccia la stessa cosa nei prossimi giorni E prosegue a San Merinetto in tutte le zone della città l'articolato programma di risalamento ai diamanti stradali che presentano ampi tratti dissestati e riqualificazione dei marciapiedi promosso dall'amministrazione comunale di San Merinetto nella giornata di domani saranno avviati lavori di rifacimento dei marciapiedi in via Leandro alle Ardi e nel tratto compreso tra le vie Ferri e De Carolis invece la ditta Asfalti SRL che già in questa settimana ha concluso diversi interventi i lavori stanno procedendo molto velocemente spiega l'assessore ai lavori pubblici Leo Sestri questa scelta è stata necessaria sia per non creare problemi di spostamento di mezzi che sono molto pesanti sia in vista delle festività pasquali per evitare disagi nel centro cittadino restiamo sempre a San Merinetto perché c'è un trasloco in vista per il mercato settimanale di Porto d'Ascoli con l'avvio dei lavori sui marciapiedi di via Mattei si pone la necessità di trovare una collocazione alternativa seppur temporanea alle bancarelle che animano il mercato del sabato una delle soluzioni attorno alle quali si ragiona in maggioranza è quella che prevede la delocalizzazione in via Totti nello spiazzale di Nanzi al Florenzia soluzione che va trovata ed applicata entro un mese ed è stato a San Merinetto perché in sala giunta è stata presentata l'iniziativa Accendi la mente e spegni i pregiudizi in vista della settimana internazionale d'azione contro il razzismo organizzata da Lunar abbiamo ascoltato l'assessore alle politiche per l'integrazione Luca Spadoni Accendi la mente e spegni i pregiudizi in iniziativa del comune di San Merinetto contro il razzismo Questa iniziativa nasce dalla giornata internazionale contro le discriminazioni razziali per il 21 di marzo quindi sabato prossimo e in quell'occasione il ministero attraverso Lunar ci ha invitato nell'intera settimana quindi dal 16 al 22 a prendere alcune iniziative ovviamente volte a favorire e a incettivare una cultura dell'integrazione e dell'antirazzismo a favore dell'accoglienza in questa occasione il comune di San Benedetto ha previsto due iniziative una è il 21 presso l'auditorium dove verrà proiettato il documentario Bambini in fuga che si occupa appunto di bambini che sono approdati nelle nostre terre in Sicilia e poi sono arrivati fino alla Svezia tra l'altro girato da un nostro conterraneo che è Simone Danieli e quindi ci sarà la proiezione del documentario e poi un dibattito con due giornalisti dell'ANSA che hanno seguito questa iniziativa e con il regista stesso Simone Danieli per quanto riguarda invece il 22 ci sarà la presentazione del progetto Muno Mukabi che è un progetto curato dall'SOS Missionario che ha consentito ad alcuni contadini dell'Uganda di trasformarsi da semplici coltivatori in venditori di caffè questo ci ha consentito a loro di esportare il caffè e quindi di commercializzarlo anche in Europa sempre attraverso il circuito del mercato equo e solidale quindi verrà presentato questo progetto ve ne verrà descritto appunto come progetto che mira come si dice ad aiutare anche in patria verso forme ovviamente di commercializzazione più redditizie quindi che consentano anche ovviamente un maggiore innalzamento del reddito in quelle zone a seguire ci sarà un film curato dal Cineforum l'associazione Cineforum di San Benedetto che è un film sull'immigrazione sotto un profilo storico c'era una volta New York titolo originale The Immigrant quindi anche qui per riflettere sempre su queste problematiche alla fine della proiezione ci sarà la degustazione del caffè Muno Mucabì queste insomma sono due giorni in cui in maniera anche diciamo con forme o proiezioni quindi senza diciamo forme anche un po' più lievi leggere insomma però che consentono una riflessione su questi temi e domani presso il centro congressi di Ascoli Piceno della Camera di Commercio in via Colla da Matrice dalle 9 alle 13 si svolgerà l'evento conclusivo del progetto Made in Italy e eccellenze in digitale promosso da Google e Union Camere e attivo da settembre 2014 per la digitalizzazione dell'impresa epicene l'evento intitolato Piceno Digital Day realizzato dalla Camera di Commercio di Ascoli sarà rivolto agli imprenditori alla stampa alle scuole agli studenti universitari e alla cittadinanza intera oltre a ribadire le potenzialità che il web offre per le produzioni del Made in Italy e per la vita di tutti i giorni avrà l'obiettivo di infondere nuove riflessioni sul web guardato da più punti di vista e dalla scorsa settimana nelle menze dei nidi comunali di San Menetto la mongolfiera e il giardino delle meraviglie viene servito pesce bianco fresco a miglia zero una volta a settimana nella giornata di venerdì i bambini possono gustare prodotto ittico fresco pescato dalla manieria sanbenettese e preparato nelle menze comunali il progetto sostenuto dall'assessorato alle politiche sociali e promosso dalla commissione mensa di nidi comunali dal comitato di partecipazione all'obiettivo di abituare i più piccoli al consumo di pesce fresco componente essenziale della dieta mediterranea anche attraverso progetti didattici laboratori creativi ed attività artistiche e il comune di Monteprandone Lauser e Alchimie d'Arte in collaborazione con l'Utes di San Benetto del Tronto presentano prima arte arte al femminile che verrà inaugurata sabato 21 in questo servizio vediamo i particolari dunque questa mostra nasce in corrispondenza di un evento che volevamo organizzare in Monteprandone per al femminile praticamente quindi avremo cinque autrici cinque pittrici che dipingono tutto al femminile e avremo anche un'esposizione di merletti a tombolo e ceramiche della Utes dell'università della terza età e tempo libero abbiamo fatto questo proprio per il fatto che adesso stanno succedendo diverse cose per quanto riguarda la distruzione dell'arte che accade in paesi islamici e noi abbiamo voluto farla proprio a femminile proprio per dare un'impronta significativa a questo evento la scelta delle artiste come è avvenuta quali sono stati i contatti per portarle a questa esposizione prima dei contatti vorrei dirle che l'intenzione è stata quella proprio di andare oltre quella che è l'ideologia che adesso è imperante in Europa cioè quella dell'appiattimento della diversità tra uomo e donna quindi a noi abbiamo voluto proprio celebrare questa diversità ed è chiarissima poi nell'ascolto di questa pulsazione interiore quello che viene fuori dalle artiste nel mondo del colore nel mondo della poesia quindi l'intenzione principale è più di natura proprio intima è quella di voler festeggiare qualcosa che oggi si va perdendo cioè proprio questa diversità che è ricchezza i contatti sono stati molto semplici anche perché fanno parte di Alchimia d'Arte già diversi artiste che sono presenti sul territorio in maniera rilevante e quindi importante un'esposizione di arti figurative per celebrare la femminilità e quindi il modo e la sensibilità di essere donna nell'arte ma anche in tutte le altre manifestazioni artistiche dal canto alla musica alla danza sì io curo la parte musicale e artistica di questo evento quindi ci sarò io che canterò anche dei brani ma avremo anche ospiti veramente dei cantanti bravissimi lo sport è ancora un gioco etica e sport giocando si imparano i valori è il titolo di un convegno in programma sabato all'Iceo Scientifico Statale Orsini di Ascoli l'iniziativa è stata organizzata in collaborazione con l'Asur Marche il via l'evento a partire dalle 8 di sabato nella palestra dell'Istituto Superiore Ascolano due relatori presenti che sono altrettanti docenti di educazione fisica Lucia Castelli e Juan Carlos Mogni bene con questo è tutto Genio Spiciano termina qui e noi vi auguriamo un buon proseguimento di serata Grazie a tutti